Dopo gli ultimi casi di focolai di infezione da Covid in RSA e ospedali dovuti a lavoratori che avevano rifiutato il vaccino anti-Covid, il nuovo decreto definisce l'obbligo vaccinale per i professionisti e operatori in campo sanitario. Obbligo di vaccinazione entro cinque giorni dall'avviso per i sanitari che non sono in regola, altrimenti mansioni senza contatti interpersonali o sospensione senza retribuzione fino al 31 dicembre 2021. In tutta la ASL Toscana Sud-Est è la provincia di Arezzo che spicca per numero di sanitari vaccinati. Fanalino di coda anche in reparti in prima linea è Grosseto, ma vediamo i dati forniti dalla stessa ASL. Su un totale complessivo di 10.175 dipendenti in provincia di Arezzo l'83 e 30 per cento si è vaccinato, a Grosseto il 76 e 88 per cento, a Siena l'81 e 72 per cento. Per quanto riguarda la dirigenza siamo all'87 per cento in tutta la ASL. Sul fronte dei sanitari in provincia di Arezzo se ne sono vaccinati l'85 e 81 per cento, a Grosseto l'80 per cento, a Siena l'84 per cento. Di questa fascia fanno parte infermieri, os personale dell'igiene pubblica. Supera il 91 per cento la provincia di Arezzo per il personale sanitario in prima linea, ovvero bolla covid, rianimazione, pronto soccorso e emergenza. Cala a Grosseto con 84 per cento e a Siena con poco più dell'84 per cento. La ASL e le aziende stanno relazionando alla regione toscana i nomi di tutti i dipendenti. Sarà la regione poi a verificare i nominativi di chi non si è vaccinato. I nominativi verranno poi dati alla ASL e ai datori di lavoro che fisseranno un appuntamento per la vaccinazione. Qualora i dipendenti rifiutassero ancora il vaccino scatteranno le misure previste dal decreto, a partire dalla collocazione ad altra funzione che preveda il non contatto con l'ambiente sanitario. D'altro canto agli operatori della sanità è chiesto un atto di responsabilità non solo deontologica ma anche professionale. Perché in sostanza fare il medico o l'infermiere piuttosto che l'os se poi si sceglie di non abbracciare la scienza e quanto questo è in grado di fare per aiutare i malati.